Si è aperta all'Aquila la settimana della Salonità di San Bernardino da Siena che sarà celebrata il 20 maggio, un programma intenso come ogni anno con celebrazioni liturgiche ed eventi messi in campo dal Rettore della Basilica Padre Daniele di Sipio e dai frati. Quest'anno c'è la collaborazione con la Guardia di Finanza, oltre al programma religioso, la settimana di celebrazione approfondirà con una tavola rotonda il tema dell'usura che ha spesso riguardato la vita e la predicazione del Santo che nei primi anni del 1400 si distinse per aver combattuto questa piega sociale ancora oggi tristemente attuale. Quest'evento si terrà il 19 all'editorium del Parco e sono state annunciate importanti presenze istituzionali dei rappresentanti nazionali delle associazioni anti-racket e anti-mafia tra cui l'onorevole Tano Grasso. Nella stessa serata del 19 maggio ci sarà il concerto della banda musicale della Finanza e poi sarà l'occasione per la consegna del programma Bernardiniano all'organizzazione civile e alle forze di polizia finanziaria che si sono distinte nel campo della prevenzione e repressione del reato dell'usura, ma gli appuntamenti sono davvero tantissimi. Bernardino ha combattuto nella sua predicazione questo fenomeno che era grave al suo tempo perché ancora oggi è qualcosa che ci affligge, quindi questa tavola rotante deve essere un aiuto per capire bene per il cittadino come poter evitare di cadere dentro questa trappola. Poi c'è l'aspetto religioso, con il 19 maggio la riapertura dell'urna alle ore 17 dove ci sarà il racconto del suo passaggio da questo mondo al cielo chiamato il transito, ci sarà la consegna dei batuffletti di cotone benedetti che ricordano quell'evento del miracolo del sangue che San Bernardino compì qui all'Aquila dopo la sua morte e il 20 maggio, solennità di San Bernardino, l'eucaristia celebrata alle ore 11 dal cardinale Edoardo Menichelli, arcivescovo emerito della diocesi di Ancona a Osimo dove appunto sarà ripetuta l'offerta dell'olio. L'usura è un fenomeno contro il quale si batteva anche San Bernardino da Siena e quindi quale occasione migliore sono i festeggiamenti del copatrono dell'Aquila per ricordare la gravità di questo fenomeno che in questo momento di congiuntura economico negativo si fa sempre più grave perché ovviamente le persone, i commercianti, le imprese hanno bisogno di denaro e l'usura rappresenta un canale illegale parallelo per chiedere denaro in prestito a persone che spesso appartengono anche alla criminalità, anzi sovente appartengono alla criminalità.